il partere vuoto lo scoprirete solo seguendoci rimanendoli incollati davanti al vostro televisore allora facciamo entrare le nostre coppie Luca e Ada un applauso bello bello come il sole Moreno e Michela ma com'è che siete entrati insieme voi due no scusa giusto per chiarire justo dopo due settimane Livia e Marco Mario Mario Livia applauso per loro forza occhio Michele Jeff applauso Rosi e Angelo Giuseppe Pasquale un grande applauso allora abbiamo un applauso ed ecco la motivazione perché tutte queste coppie così come sono state presentate cosa fanno? Allora questa sera li facciamo fare non solo cantare questi ragazzi li facciamo fare una gara così amatoriale di di ballo eh ci hanno richiesto. Ma mica tanto amatoriale io l'ho visti tutti che si stavano preparando no tira sulla gambetta no tira laggiù no guarda che il passo è doppio cioè guarda che questi si preparano fanno seriamente. Ivana allora ricordiamo che chi vince Ivana toccherà a te giudicare eh girare no sì sì dai fallo a te perché io non sono tanto bravo nel giudicare i ballerini quindi toccherà a te a giudicare loro il vincito i vincitori la quindi la coppia che vincerà parte in vacanza no gli offriamo una cena gli offriamo una cena sì gli offriamo una cena. Ah tu pensavo già alla vacanza. Va bene come premio sì dai. Una cena a base di pesce. Una cena dai. Allora andiamo subito quindi mettiamo mettiamo facciamo posizionare queste coppie dai posizionatevi e io inizierei con non so che che cos'è mettiamo. Un latino americano. Un latino americano una baciata. Una baciata? Una baciata. Ma pagliamo anche noi due? No. No possiamo Ivana non ti conviene. No eh no. Mi messi i piedi. Allora forza andiamo con la baciata. Vediamo poi Ivana vediamo un po'. Allora è difficile eh. Io li vedo tutti però ascolta Stefano cioè tipo ti posso dire. Io mi sono assentata due settimane ma Luca guarda come sta ballando guarda. Quella quella Luca sì. No se poi io non posso lasciarlo via. Non va? No. No. Ma poi guarda come tiene la ballerina dai. È troppo vicino. Troppo troppo troppo. Ti vado a toccare la spalla posso? Guardiamo anche gli altri. Guardiamo guardiamo la nostra liberula come ti sembra? Insomma se la cavano bene loro due eh. Allora Ivana gira gira inizia a toccare la prima coppia che vuoi eliminare. Forza. Vediamo un po'. Si comportano tutti bene guarda che non è semplice. Eh no. Eh guarda io l'ho detto così casualmente prima ma io questa coppia proprio eh mi dispiace. Allora scriviamo la musica. La prima. Adda eliminata e anche Luca. Adda non è colpa tua. Hai scelto il ballerino sbagliato e questa è la verità. Adda e Luca quindi cambiamo andiamo. Ivana come mai li abbiamo eliminati così? Ma guarda proprio ballavano malissimo. Guarda io non ti posso dire non stavano bene insieme perché poi la teneva troppo stretta sta ballerina Luca. Seconda prova sempre latinoamericano? No. Andiamo con un liscio. Ah con un liscio. Posizioni. Coppie. Veloce. Posizioni. Io vengo qui a lato vicino a te. Allarghiamoci un po'. E andiamo con una polca. E vada con la polca. qui si gira? Hola ma c'è chi alza la gabbetta? Guarda questa coppia. Guardala Giussi. Guardala. Hola alza la gabbetta. Sì. E la nostra balletta Michela qui? Come ti sembra? Brava brava. È piccola la pista ma loro se la cavano bene. Forza girate Ivana fagli un po' girare. E Moreno e Michela come se la cavano con la polca? Guarda. 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 Così così eh. Lui mi sta pestando i piedi. Lei sta pestando i piedi. Sì sì sì. Guarda. È somma. È la nostra livellula. Ma anche loro. Somma questa è una polca. Deve essere ballata più veloce però. Guarda. Ai ai ai. Livia di qualcosa. Guarda. Guarda. Non si può è così. Io guarda. Basta Ivana. Vai vai vai. Eliminiamo qualcuno eh. Scusate scusate. Voi cantate molto bene ragazzi ma tu non le puoi massacrare i piedi così. Eh dai. Le ha pestato i piedi per cinque minuti di polca. Scusa. Quindi. Fammi vedere il ditone. Fammi vedere. Te l'ha massacrato il ditone? No è ancora sano il ditone. Meno male. Meno male. Voi cantate molto bene eh. Moreno e Michela. Continuate a cantare. Allora li facciamo accomodare. Moreno e Michela. Mi dispiace. E allora andiamo con eh. Ma tu l'hai vista questa coppia che alzavano la gambetta tutti e due? Mannaggia. Tremenda. Pasquale e Giuseppe. Ma che alzate la gambetta voi due? Scusate. Dove che andate a far corsi? Perché non è che da tutti ballare la polca così. Va bene. Ok. Allora andiamo con la prossima prova. Mettiamo un eh. Aumentiamo il ritmo. Sì. Con cosa? Eh. Tartella? No. Rock and rock. Che gli vuoi fare? Una tarantella dai. Andiamo con una tarantella. Eh. Tarantella. Scusa. Una tarantella sì. Forza. Posizione. Chi vuole può togliersi le scarpe. Velocemente. Chi vuole può togliersi le scarpe. E Rosaria vai subito immediatamente. Allora. Avanti Rosaria e Angelo. La nostra livellula. Prego. Vieni. 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 Posizioni qui. La nostra livellula. Ok. Ci siamo? Andiamo con la tarantella. E c'è sempre più spazio nella pista. Via con le danze. Via con le danze. Guarda la nostra livellula Ivana. Eh io la livellula. Com'è questa coppia qui davanti? È molto brava. Beh ma questa coppia Rosaria e Angelo mamma mia. Sfumiamo sfumiamo sfumiamo. Andiamo ad eliminare qualcuno. Allora io vado a toccare la spalla scusate alla livellula eh perché siete stati bravissimi ma un po' lenti per la tarantella. Un pochettino lenti. Però però siete stati bravissimi eh. Va bene? perfetto. Ok. Allora con un c'è un tango? Grazie. Un tango? Io devo fare i complimenti a Angelo e Rosaria. Sono stati bravi? Mamma mia. Ok. Cioè da dove arriva scusa Stefano la tarantella? Le origini? La taranta? Calabria qui mi dicono. Sì come regione la Calabria ma la taranta perché sono stati mozzigati dalla taranta. Più o meno. Ok. Ah qual è la pizzi? Vabbè. Allora noi andiamo con il tango però aspetta non siamo non sono in gara ma li facciamo ballare perché la Livia è pazza per il tango. Allora sì. Vero Livia? Allora andiamo. Allora. Il microfono. Il microfono. Il microfono. Aspetta Livia. Aspetta Livia. Siete stati eliminati per la tarantella ma adesso si prosegue con il tango quindi lo ballate. Sì. Ti ringrazio. Perfetto. Allora. Torniamo il microfono e si passa col ballo. Vai. Tango via. Via con i caschi. Vai Livia ballalo pure se non sei in gara. Vai vai. Con Mario. Stop 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 Ivana. Chi è? Ma io più che eliminare io darei premi per ogni per ogni tipo di 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 ballo. No eh no se no. Eh sì. Ascolta per questo tango scusa ma Pasquale Giussi mamma mia bravissimi. Allora chi eliminiamo? Allora intanto esatto. Abbiamo tre coppie. Eh hai capito qui eh ascolta per per la tarantella Angelo e Rosaria bravissimi. Per il latino americano eh loro sono stati veramente molto bravi. avvantaggiati perché lui ha insomma le note latino americane nel sangue. Il gene proprio. Eh eh ascolta per il tango. Allora cambiamo un po' genere. Io io non so io non mi prendo il capito responsabilità. Quindi queste tre coppie. Chi eliminiamo? Hai bisogno? Di un altro ballo? Sì. Ok. Allora andiamo con un rock and roll. Va bene? Un rock and roll. Sì. Allora andiamo con la. Vi voglio vedere. Perfetto la coppia qui. Qui vi voglio vedere. Avanti. Ok. Forza. Allora andiamo con un rock and roll. Woohoo. Wella. Ivana Ivana c'è qualcuno da eliminare? Stop stop. Stop a tutti ma guarda io sono veramente imbarazzata. Eh perché? No è perché questa coppia io l'ho trovata un attimo hai capito? Perché lui è molto bravo. un attimo, hai capito così? Cioè ti ha girata sotto sopra però non hai capito bene da quale parte e vada col waltzer e si va Bon Bon, basta Evana? Com'è? Un, due, tre, scusa Andiamo Evana, allora Ma sei bravissimo Io qui sono assolutamente sicura di ciò che sto dicendo Sicura? Eh sì Eh sì Giuse e Pasquale sono i vincitori Ok allora un grande applauso era un attimo di gioco Bisous a metà e quindi facciamo un grande applauso Vi facciamo accomodare Grazie a tutti Grazie a tutti